ciao a tutte ragazze oggi dovremmo proporre questa piantina che in natura rappresenta la calendula una pianta molto utile che mi ha ispirato per fare questa creazione e come tutte le piantine che faccio si compone di vari pezzi da assemblare tra di loro che adesso man mano uno per uno vado a spiegarvi andiamo allora cominciamo con la spiegazione del fiore che si compone di tre giri petali andiamo a fare subito il primo che è più grande e dobbiamo fare 3 4 5 6 catenelle da chiudere in tondo all'interno dobbiamo fare un punto alto che lo sostituiamo con le solite 3 catenelle all'interno dobbiamo fare 12 punti alti quindi 25 cerchiamo di acchiappare questo così lo fermiamo direttamente 6 8 9 10 11 e 12 adesso togliamo questo che magari ci può disturbare adesso in ogni dove in ogni punto alto dobbiamo fare 7 catenelle quindi 2 3 4 5 6 e 7 ok in queste 7 catenelle dobbiamo fare un punto alto una mezza maglia alta 12 e quattro punti alti 3 e 4 ok andiamo a fare nel successivo punto una maglia bassissima e ripetiamo da capo 2 3 4 5 6 e 7 e rifacciamo lo stesso lavoro per tutto il giro adesso per velocizzare taglio così adesso 4 5 6 e 7 adesso stiamo facendo l'ultimo pettalo del primo fiore faccio il taglio ragazze anche per voi perché parecchio ripetitivo così evitiamo di allungare i tempi ecco qua adesso abbiamo terminato il primo fiore o chiamiamolo il primo giro dei pettali che serve per comporre il fiore quindi questo lo fermiamo qua dietro in maniera che non si è visto lavoro ok e incominciamo a preparare per fare il secondo giro di mano adesso passiamo a fare il secondo giro di petali che è parecchio identico al primo e anche il terzo identico allora questo qua invece di 6 catenelle dobbiamo fare 5 catenelle 1 2 3 4 5 le chiudiamo sempre in tondo e allora interno al primo punto alto è sempre sostituito dalle 3 catenelle e allora interno invece di 12 punti alti ne faremo 10 perché sono i migliori sono di grandezze vanno di grande se uno dietro l'altro più piccoli quindi 4 e 5 ok mettiamo questo sotto così sta fermo adesso abbiamo fatto dieci punti alti vediamo questo così non ci disturba in ogni punto alto come abbiamo fatto nel primo giro di petali dovremmo fare 2 3 4 5 6 e 7 catenelle uguale preciso identico come abbiamo lavorato il primo giro di petali quindi in queste 7 catenelle andremo a fare un punto basso una mezza maglia alta è un punto alto in ogni punto alto precedente vorrei a dire 4 punti alti ognuno nella propria catenella sottostante ok è un punto basso un punto bassissimo lo stesso e ricominciamo 7 catenelle facciamo tutto il giro dei dieci punti alti così ok adesso tagliamo per velocizzare anche qua perché se non è parecchio ripetitivo 12345 adesso stiamo terminando all'ultimo petalo del secondo giro di petali ovviamente facciamo gli altri quattro punti alti 3 e 4 ok abbiamo terminato il secondo giro di petali quindi questo secondo giro è composto da dieci petali il primo era composto da dodici petali erano messi uno sopra l'altro per comporre il fiore intero quindi adesso fermiamo questo ok allora questo è il secondo il secondo giro di petali per comporre il fiore adesso passiamo a fare il terzo che come ho detto prima e sono identici solamente che faccio punti alti in meno quindi possiamo fare 5 catenelle 4 e 5 chiudiamo sempre intorno nel suo interno facciamo invece di 10 adesso dobbiamo fare solamente 8 punti alti quindi li stiamo facendo sempre più piccoli 3 4 fermiamo questo 5 6 7 8 ok questo lo tagliamo così non ci disturba quindi il giro che c'è il giro successivo dobbiamo fare come tutti gli altri che abbiamo fatto fino adesso quale 7 catenelle in ogni punto in ogni punto alto dobbiamo fare 7 catenelle 3 4 5 6 7 sempre un punto basso una mezza negli alti e quattro punti alti per formare il petalo quindi per fare una serie di petali giro completo dobbiamo fare dobbiamo continuare a lavorare così finché ne avremmo fatto 8 ok per velocizzare adesso tagliamo così ok adesso stiamo terminando l'ultimo petto di questa serie e qua facciamo gli ultimi quattro punti alti ok e con questo abbiamo terminato e la terza serie di petali che comporrà il fiore quindi questo ne abbiamo fatto il primo che aveva 12 petali il secondo che ne aveva 10 e questo che ne ha 8 adesso fermiamo come sempre questo qua dietro così ecco qua allora abbiamo il primo il secondo e il terzo che un pochino più piccoletto ok ecco qui adesso passiamo a fare a fare lo stelo pezzettino cerchiamo il filo di ferro plasticato vediamo presto a poco che lunghezza ci occorre per fare il filo della calendula e direi che così come anche bene poi prendiamo il cotone giallo e su una punta cerchiamo di fare otto filiamo tutto il cotone così cerchiamo di fare una pallina cercando di dare una forma un po bombata che sarà il pistillo del fiore ok adesso dobbiamo curvarlo un po per bloccare ecco qua vediamo quello che occorre da tagliare poi questo in più forse anche un pezzetto ancora qua vediamo di curvarlo ancora un po se parecchio duro continuiamo ad aiutarci con una pinza ecco cercando di darle la posizione giusto così adesso tagliamo questo e questo è pronto pronto da inserire nei petali e facciamo il primo che quello che ha meno petali piccolino così poi mettiamo quello medio e poi mettiamo quello più grande sotto così cerchiamo di dargli la giusta questi petali non c'è bisogno di tirarli e di stirarli perché anzi devono stare così un po curvatino ricciattini ecco adesso passiamo alla spiegazione del calice un piccolo calice ok adesso prepariamo il calice il piccolo calice quindi dobbiamo fare 6 catenelle 3 4 6 chiuderle così intorno e allora interno lavorare il primo punto alto sempre 3 catenelle ok allora interno lavorare 12 punti alti quindi siamo 3 5 ritiriamo questo sotto così non ci disturba adesso togliamo ora cerchiamo ripassare questo all'interno con un po di pazienza ci dobbiamo riuscire ecco qua ok adesso il calice senza tagliare il filo e mi raccomando andiamo a infilare nello stelo così poi prendiamo questa piccola catenella che abbiamo lasciato qua e incominciamo a lavorare attorno allo stelo le catenelle che copriranno interamente il gambo ok quindi lavoriamo la catenella una volta a destra così e una volta a sinistra del gambo e andiamo avanti finché non l'abbiamo coperto tutto sino a una certa altezza ok adesso taglio per velocizzare così non abbiamo quasi raggiunto l'altezza che ci occorre facciamo ancora un paio di catenelle e questi circa 23 cm e lasciamo per poter inserire questo stelo nel vasetto ecco qua adesso fermiamo il filo così non ci disse il lavoro fatto ecco qua e andiamo ok la forma dei fiori perché pressa poco questa e poi adesso faremo tutti gli altri ecco qua vediamo una strizzata una sistemata e poi lo sistemiamo allora questo sembra bombardato comunque questo il mio vasetto di prova sembra un colabbro non fateci caso questo cielo per fare tutte le mie prove comunque ecco qua adesso facciamo tanti altri fiori linee li sistemiamo al centro comunque prima vi faccio vedere come si fa la foglia ok adesso passiamo alla spiegazione della foglia che alquanto semplice allora dobbiamo fare 25 catenelle ok allora in queste 25 catenelle dobbiamo lavorare tre punti bassi tre mezze maglie alte tre punti alti sei punti alti doppi poi di nuovo tre punti alti tre punti bassi a un lato delle catenelle uguale precisi identico l'altro lato adesso andiamo a farlo quindi tre punti bassi 12 tre punti alti ok adesso facciamo i sei punti alti doppi quindi 1 8 noi facciamo 2 3 4 5 che sei adesso facciamo nuovamente tre punti alti normali aspettavo che ok per tre punti alti poi tre mezze 12 e 33 punti bassi 12 ok adesso al lato opposto di dove abbiamo lavorato rifacciamo la stessa precisa identica cosa quindi un punto basso due punti bassi tra punti bassi noi facciamo le mezze 3 poi facciamo quelli alti poi facciamo quelli doppi punti alti doppi che dobbiamo farne sempre 6 24 ok adesso rifacciamo come prima quindi tre punti alti dove e tre tre mezze ok che tre punti bassi 123 ecco adesso facciamo una bassissima qua cerchiamo di distenderla così poi prendiamo il filo di ferro zincato e cerchiamo di tagliarlo della lunghezza che ci può servire la lunghezza della foglia più qualcosa in più perché dobbiamo attorcigliarlo poi per creare una sorta di stella da poter inserire all'interno del vasetto allora dunque adesso vediamo di poggiarci così vicino e cerchiamo di inserirlo lavorandoci attorno ai punti bassi quindi incominciamo ecco qua questo serve per dare sia sostegno alla foglia in maniera che poi la possiamo curvare come ci occorre e dargli la posizione anche che ci serve giusto così allora un lavoro abbastanza semplice da fare non ecco qua adesso mentre facciamo questo lavoro qua cerchiamo anche di fermare questo pezzo di filo così ce l'abbiamo già sistemato no ecco qua lo inseriamo in mezzo al lavoro tra le catenelle punti bassi e scompare ecco qua adesso pieghiamo il filo di ferro e cerchiamo di avvicinarlo il più possibile alla foglia in maniera che poi ci viene bene per lavorare i punti bassi così in questa maniera ecco qua adesso stiamo facendo il lato opposto quindi dobbiamo fare lo stesso identico lavoro ok se per caso ce l'avete troppo lontano troppo vicino cercate di modellarlo per dargli un po la sua forma giusta ecco qua questa è una piccola foglia ma va bene così perché la calendula pressa poco ce l'ha così poi ecco qua adesso abbiamo finito una volta che siamo arrivati a questo punto cerchiamo di sistemarla con le mani cerchiamo di modellarle dare la giusta forma poi dobbiamo attorcigliare su se stesso il filo di ferro zincato di circa dunque vediamo un'altezza di circa due centimetri una cosa così ecco qua dopodiché cerchiamo di questo va bene questo pezzettino in più va bene perché ci sarebbe portato inserire nel vasetto ok adesso ci facciamo due catenelle attorno così fermiamo direttamente lavoro tagliamo il filo così e lo fermiamo un po dietro con due gettate dunque aspetta un attimo e quindi facciamo due punti in più qui da quello qua così facciamo anche un altro così sta più tranquillo e poi lo passiamo qua adesso lo tagliamo quello che c'è in più anche l'altro che avevamo nascosto prima facciamo così ecco e tagliamo pure questo che c'è in più qua adesso la prima foglia l'abbiamo fatta e la posizioniamo nel nostro vasetto di prova e vediamo se prende la giusta forma ok perché questa avendo fili ferro potete dargli la curvatura che volete così e queste le posizionate tutto attorno al centro sistemate i fiori tutto attorno sistemate le foglie le fiori logicamente fateli anche di attenzione po diverse un pochino più alti ok questo è il nostro lavoro terminato come vedete è stato abbastanza semplice da realizzare io ho messo solo cinque fiori voi potete metterne molti di più oppure potete anche inserirli all'interno di una composizione con altri fiori che ci stanno bene tipo fiori di campo non so o perché no anche realizzarne solo uno e usarlo come segnalibro quello che preferite io vi ho dato solo un'idea di come creare un fiore una pianta che dirvi spero che vi siate divertite come me a crearlo e alla prossima opera ciao a tutti